Ehi, spiegate che sennò fanno tardi. Guarda che io non sono mica buona a fare niente, sa. Beh, tampone. A carcare un passiamo. Non ci fa caso se il principale è un po' scorbutico. Purtroppo quando lavori i sordi non ti li regalano assù. E che fratello che c'ho. Ma di chi hai preso? E di San Sebastiano Marchi. Buongiorno. A San Piede, questo è a mio fratello che gli avevo parlato. Non ci avete mica ripensato? Va bene, va bene. Allora io vi saluto a San Piede. Arrivederci. Vogliate lavorare a San Piede addosso Lavora, padre mio, che io non posso Avanzoni, allora la devo caricare. Ma qua deve fare un altro. Eccolo là. Ma so 80 quintali, sì. So 80 quintali, che bello a frega te. 80 quintali. 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro? A voi, namo, fatele coraggio. Un po' di buona fantasia è finire subito. Sì, da campare. Quanti viaggi ci vorrà? Stai se ce la metti tutta. Tutta ce la metti te. Sì. Grazie.